Il fenomeno dell'immigrazione approda anche nel capologo Peligno. A Sulmona i profughi alloggeranno in un palazzo messo a disposizione della Casa Santa dell'Annunziata, una IPAB istituto pubblico di assistenza e beneficenza, che oltre ad avere numerosi stabili in città e nella regione, gestisce a Sulmona anche l'omonima Casa di Riposo. La richiesta di ospitare i profughi è partire direttamente dal commissario reggente della Casa Santa dell'Annunziata, Dario Recubini. Siamo stati informati del prossimo arrivo dei profughi in città, spiega il sindaco di Sulmona Peppino Ranalli, solo ieri dal vice prefetto vicario Giuseppe Guetta, dopo che nei mesi scorsi avevamo dovuto negare la nostra disponibilità per mancanza di strutture idonee all'esigenza. Con il vice prefetto ho più volte sottolineato i problemi di sicurezza ottenendo le più ampie garanzie e merito. D'altronde sono convinto che anche il nostro comune debba fare la sua parte in questa situazione di emergenza nazionale. Si tratta di esseri umani che vengono da paesi in guerra dove non c'è più democrazia e dove in atto una pulizia etnica. E davanti a questi temi non possiamo restare indifferenti, conclude il primo cittadino. L'emergenza profughi tocca così anche l'Abruzzo. Nelle prossime ore ne arriveranno 320, tutti i provenienti da Grigento, che saranno sistematicamente 80 per provincia nelle strutture di accoglienza individuate dalle quattro prefetture regionali. I primi 25 saranno ospitati nella provincia dell'Aquila, 18 a Sulmona, 1 a Castel del Monte, ne ospita già 14, 2 all'Aquila e 4 ad Avezzano.